bella ragazzi sono tommy zucca e quest'oggi sono qui con l'area da pex bella ragazzi eccolo qui e siamo qui a commentare il primo gameplay rilasciato dalla tecland e della warner bros gaming per appunto questo gioco a mio avviso carino da quanto carino ma molto strano quanto si può vedere perchè si potrà vedere potrete vedere uscirà al 24 giugno no 20 vabbè intorno a giugno diciamo non si stiamo verso la fine sicuri al 100% si esatto e appunto come il vecchio capitolo cioè che la dead island si vedrà in grado tratta di zombie questo gioco e appunto me a noi gli zombie piacciono quindi vabbè allora è un gioco per next gen si principalmente per next gen però è possibile è disponibile anche su PlayStation Bridgeport esatto quindi per all gen bene adesso il gameplay che state vedendo è l'inizio cioè l'inizio della storia della campagna penso dove il protagonista appunto cioè ci fa vedere più o meno come sarà il gioco come si rivolgerà ad altrove la cosa importante sono come hanno detto sono sentire i suoni in questo gioco si esatto in questo momento come avrete sentito c'è stato un urlo di una bambina quindi che appunto i suoni possono darti degli indizi darti delle possibilità anche perché sto gioco qua è è più o meno come GTA che la mappa è open world si può andare ovunque e tutti gli oggetti sono dinamici come potete vedere questo palo oppure qualsiasi altra cosa si può saltare dappertutto e da tutte le parti che ha tutti dati il telefono quasi smarretta a bestia vabbè adesso vediamo che il protagonista che io penso sia un un parkour cioè uno che fa parkour no allora in questo gioco si potrà fare parkour beh guarda qua è proprio quasi basato sul parkour alla fine diciamo che è basato sugli zombie però c'è la dinamica di gioco è ampissima non si sa quando muori perché questo zombie qua l'ha appena morsicato però non muore è dimorso in tutti i modi ma non muori e la cosa principale a quanto ci pare di aver capito bisogna raggiungere delle zone dove vengono lanciate gli approvvigionati si delle case bisogna come difendere indicate dal fumo rosso che appunto dopo nel gameplay potrete vedere e ovviamente nella mappa ci saranno anche altri gruppi di sopravvissuti che però non saranno buoni no o possono essere i tuoi amici aiutarti oppure non so fare guerra e a quanto riguarda gli amici non sappiamo se il multiplayer sarà disponibile in questo gioco ma penso di sì non hanno svelato nulla non hanno ancora detto niente però penso proprio di sì perché è un gioco senza multiplayer è una merda eccolo è una merda devo andare io allora qua potete vedere un po' come che si va avanti no vabbè allora qua vediamo adesso tra poco arriveremo agli approvvigionamenti questi sono gli zombie è un po' ricordare Dead Rising questa parte non so se l'avete mai visto Dead Rising per Xbox One gioco altrettanto bello che il zombie che è veramente proprio ricorda molto vedete che il protagonista penso che abbia anche dei poteri speciali come dice un supereroe perché dopo come potrete vedere avrà un coltello che spara scinti si scinti è tutta una cosa elettrica ecco vedete il primo provvigionamento lanciato dall'aereo che nelle prime immagini di questo gameplay è passato qui ovviamente la trova un altro troppo l'hanno trovato prima altre persone quindi l'ha fatto andare via per fortuna senza essere sparato ammazzato ecco qua qua c'è una cosa interessante perché coloriera metà uomo però si trasforma è diventato un zoom instantaneamente qualcosa che non c'è non è arrivato finalmente al punto dove fa una body slam alla wrestling alla contello ancora fai un'ora vabbè comunque la grafica è strabiliante repito la grafica non si sa se cioè il vento che è in giro la grafica come è stato il mio penso sia su next gen però anche su ps3 xbox normale penso sia non male diciamo speriamo anche perché io personalmente avevo comprato battlefield 4 che ovviamente era stato progettato per next gen e su old gen non mi c'è ovviamente era una cosa completamente diversa da giocare e speriamo speriamo che questo sia fatto sia bello sia bello su entrambi in il anche il cap avre qua vediamo alzano can ci sono anche diversi tipi di zonghi che ecco vedete quale la cosa cattivo questo gigante però è stupido non mi fa un vinto rimbambito. poi salti come al solito scimola nel buco alta la recinzione a e questo gioco è ballato in e sulla notte c'è in nella notte basato sulla notte non proprio però la notte è ovvio perchè di notte diventano malefici delle bestioline schifo cattive che diventano il triflo più forti e adesso vedete che le saranno proprio con i macchi di martelli martelli ma te una vera gente in te del panorama il panorama complesso il papapurama il pannottana il panorama comunque è perfetto la grafica stupenda proprio anche le luci ma non mi senti e vedete è tutto buono è alta qualità curatissimo ragazzi molto ragazzo molto cioè molto buono e la cosa che non avevano detto ma è molto importante è che nel gioco saremo in contatto con una ragazza una un'altra una città allora che vi parlerà nella radio vi spiegherò un progetto tutto un saluto acqua alle prime armi che si può inventare il cuore ecco il bosco vedete che è diventata notte il cuore e non lo attacca ma ecco vedete ha lanciato una caramella che non si sa da dove vedete qua poi come possiamo dire che è come gta per le armi perché lì assegnati di tasche non si sa da dove tira poi martelli ma città ascii perché vabbè sei miliardi di tasche vabbè adesso mi trova il secondo provvedimento che va lanciato l'aereo ragazzi e qua non si riesce a capire cosa trovo mossa speciale si vabbè un altro po' di slam tor uccide uno già morto e questo e qua trova gli approvvigionamenti che vi daranno diciamo risorse per la sopravvivenza si diciamo parte eccolo qua il primo provvigionamento che abbiamo trovato anziché hanno trovato la pd ecco ancora vabbè ecco qua non troviamo niente a parte un orologio un orologio ma vabbè purtroppo il gameplay non c'è dato molto da parlare perchè tutto ciò che potevamo dire l'abbiamo detto ma non è vabbè adesso diventata notte attenzione e le trappole saranno già molte trappole saranno già attive e se non ci pensano già di zombie a farsi del male da soli qua bisogna andare cauti alla della storia poi gli zombie lanciano tipo degli impulsi rossi che potrete vedere e penso siano il raggio in cui si possono sentire ecco questi questi impulsioni si si guarda che vengono dagli zombie si ma è lui che mi fa penso vengono dagli zombie ok no no si vedete come sperluccica e sono giunti ma certo tra cui non è bellissimo no bello d'altronde lo sapevo vedete che vengono dagli zombie lasciate un like perchè vengono dagli zombie vengono dagli zombie vabbè dall'albero da l'albero da l'albero clan ma forse lo lo compreremo lo compreremo però bisogna vedere primo quando esce e soprattutto da gamestop dicono che esca il 25 cioè 25 quindi il 21 che è il 26 perchè è il 26 perchè è il 26 e sicuro è il 8 agosto no 26 cioè ci sono matematica non è un'opinione meraviglia 65 6 ok allora è l'unico gioco che c'è prima buono poi in prossimi giochi per mh old gen cosa c'è watchdog sì che è un molto bello forse riporteremo anche qualche game play in considerazione e poi c'era quella roba lì del mondiale del brasile si si e purtroppo è l'ultimo capitolo è l'ultimo capitolo la fine tanto non è giocato con un minore ma molti ma non si può dire cazzo molti se non faceva tutto questo è il suo rumore ecco qua finisce il gameplay con uno bruttissimo e noi salutiamo bella ragazzi good luck e la squadra il non è nulla il l'aere il l'aere la per il 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 un sarebto il 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 quino bene ata